I colori del Carnevale di Viareggio invadono la sede della Giunta regionale per la presentazione ufficiale dell'edizione 2020 che prenderà il via sabato 1 febbraio. Il Carnevale di Viareggio quest'anno si appresta a festeggiare i 147 anni della manifestazione con i tradizionali corsi mascherati, ma non solo. Sfilate, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici ed eventi sportivi. Quest'anno la novità assoluta è la sfilata notturna di giovedì 20 febbraio per festeggiare il Giovedì Grasso. Si potranno così ammirare nove carri di prima categoria, cinque di seconda, nove mascherate in gruppo e otto isolate. È un avvento culturale e artistico insieme perché mette in mostra una creatività che ormai si è consolidata e che ci è riconosciuta. I maestri operano durante tutto l'anno, lo fanno con un patrimonio ormai di conoscenza che di per sé già una storia. Ogni anno ha una scoperta. Quest'anno i nove grandi carri sono ancora una volta una sollecitazione che stimola la nostra curiosità ma che trova di volta in volta sempre il riconoscimento di un pubblico più largo e più importante. Fra i personaggi rappresentati nei carri, Greta Thunberg nei panni di Dorothy del Mago di Oz, il calciatore Cristiano Ronaldo nei panni di Frankenstein e poi Donald Trump, Matteo Salvini, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I temi sono nella totale libertà e io sono soddisfatta ogni anno perché davvero rappresentano la società nella sua evoluzione mantenendo quella satira comunque non sottolineata in alcuni casi ma sempre con grande allegria e gioia di vivere. Sabato 1 febbraio è prevista la cerimonia di inaugurazione, l'alza bandiera e il primo corso mascherato. I corsi sui viali a mare saranno riproposti domenica 9, sabato 15, giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 febbraio con il grande finale e la proclamazione dei vincitori. Grazie a tutti.